eccomi 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 buonasera amici amiche rossoneri ragazzuole ragazzuole belle come dico sempre buona serata prima di tutto di questo venerdì 16 febbraio che ore sono sono le ore 19 in punto le ore 7 di sera in punto e buon weekend ragazzuole ragazzuole belle noi ci vedremo domenica sera per il video reaction dopo monza minan vi voglio ricordare che monza minan alle ore 20 45 di sera di questa domenica alle ore 8 45 di questa domenica e noi dopo ci vedremo per il video reaction allora dopo la bella vittoria di ieri contro un modesto ren scusate se lo ripeto ma è la verità ragazzi il bello lo si deve vedere con altre squadre allora oggi saltano fuori delle notizie di corollario anche se il protagonista di questo video il nostro mike manian allora sulle notizie di corollario io sinceramente mi grato dal fastidio perché oggi ho già letto una cosa che veramente mi ha dato parecchio fastidio ma la voglio fare in breve we build uno dei principali costruttori edili italiani ha dichiarato praticamente su quale base poi questi qui l'abbiano fatto si vede che saranno consultati col comune di milano boh hanno dichiarato in una lettera scritta mandata al comune di milano a un altro ente al milan all'interno non ho capito se l'hanno mandata questa lettera ma penso di sì che praticamente loro we build è loro we build costruttore numero uno italiano in italia quant'altro possono fare lo stadio nuovo ristrutturare il san siro mentre le squadre giocano dentro lo stadio bene così lo dicono loro siamo tutti a posto tutti felici però praticamente gli altri sono tutti stupidi non capiscono una mazza bene la risposta dice la gazzetta tra l'altro oggi del milano è stata molto tiepida anche quella dell'inter sta molto tiepida le squadre hanno ribadito che parleranno sicuramente con il sindaco sala ma lei sindaco sala voi di we build e compagnia bella rimarrete con un pugno in mosca in mano o questi non ce la fanno più questi non ce la fanno più non sanno più come convincere il milano nell'inter rimanere san siro affaracci vostri di tutti quanti come dice il sindaco sala se lo venderà questo stadio e fuori dalle balle dai su andiamo avanti a razzo perché io veramente a volte di parlare delle stesse cose mi sono stufato poi oggi si viene a sapere che l'assessore alle opere pubbliche di san donato ha tracciato i prossimi passi addirittura nel male augurate ipotesi l'ultimo passo in amministrazione comunale durerà per due anni di discussione tempo massimo ma non sarà così e qua è di su di giù adesso a marzo faranno un incontro al pirellone di milano per la nuova sede della regione lombardia di milano al pirellone il san donato farà l'incontro con la regione lombardia il comune di milano tutti gli enti coinvolti nel progetto che barba fare che noi a fare le cose in italia madonna che noi va bene hanno ragione che dobbiamo fare un gran lavoro di viabilità deviazione urbanistica e tutto il resto è tutto giusto ma che trafie ma che rottura di scatole che no che noia che noia lo dico a quelli che arrivano dall'estero non venite in italia a fare opere pubbliche mastodontiche perché guardate è un disastro va bene ora ragazzi in attesa del nuovo proprietario che arriveranno al milan scicchi piuttosto che dobbiamo attendere un attimino ragazzi perché lo ripeto per l'ennesima volta e su tutto quello che leggete vedete su youtube compagnia bella sono anche queste tutte cose che trovano la noia di notizia perché è ovvio scontato ve lo ripeto per la centesima volta che redboard è al milan solo per avere le firme dell'inizio lavoro dello stadio iniziare il lavoro dello stadio punto a capo il giorno dopo vende il milan è scontato e strà scontato è chiaro avete ragione alcuni di voi hanno ragione quando mi scrivono che praticamente c'è da stare bene attenti sul fatto che molto probabilmente redboard di vincere a livello sportivo non gli frega niente vedremo e se sarà così se si capirà questo vi daremo una battaglia pazzesca a poi delle voci su lopeteghi sulla panchina del milan a posto di pioli che lopeteghi se ne stia dove cavolo vuole questo qua se ne vada in vacanza a marbella ibiza formentera dove cavolo vuole che a me non me ne frega niente di questo qua perché andare a prendere lopeteghi vuol dire fare un salto in giù invece che in su l'unico che ci fa fare il salto in su si chiama antonio conte ma poi avete visto lo schieramento di scudi di giornalisti che dicono che che pioli deve rimanere al milan ma fate veramente ma fate veramente tutti ridere basta è uno schifo vogliono decidere loro cosa deve fare il milan invece il milan per fare il salto in avanti deve prendere antonio conte punto a capo c'è poco da dire bene adesso parliamo del adesso mi sono annoiato di parlare queste cose parliamo della notizia del protagonista di questo video praticamente il milan si viene a sapere oggi che ha fatto una proposta verbale di rinnovo a mike magnan a suo entourage di mike magnan la proposta del milan è di 5 milioni di euro udite udite più il bonus praticamente mike magnan rimarrebbe di un milione di euro sotto lo stipendio di leao ma udite udite invece non è finita qui mike magnan si viene a sapere oggi e la voce della già è in circolo che il suo entourage chiede 8 milioni di euro netti di stipendio il milan valuta mike magnan con una cifra bella bella abbondante si viene a sapere oggi anche questo non è la cifra che io pensavo 60 milioni di euro più bonus ma praticamente una cifra che sfora gli 80 milioni di euro bene se arriva uno con questi soldi ciao grazie e ragazzi adesso io sarò impopolare ma come fai a rifiutare 80 milioni di euro per un portiere come fai saresti uno stupido totale rifiutarli è chiaro qual è il concetto ve lo ripeto ancora vi voglio ricordare che su mike magnan c'è il buyer di monaco e si parla anche del paris saint germain per cui il paris saint germain doppio acquisto leao magnan ve lo ripeto per la centesima volta che però il nostro magico mike che chieda 8 milioni di euro netti va bene che lui ancora oggi percepisce un stipendio di 2 milioni e mezzo di euro quant'altro però 8 milioni di euro netti però io ho fatto un altro ragionamento pochi video fa allora redbird vedete di fare i furbi non rompete le balle lo dico simpaticamente parlando e con educazione anche se sembra che ho detto un termine scurrile allora voi fate una cosa fate il contratto rinnovo a questo qua mike magnan gli ho rinnovato 8 milioni di euro netti ci dobbiamo pagare una montagna di tasse di questo qua prolunghi il contratto arriva quello con l'offerta grossa lo vendi punto a casa punto a casa con una montagna di soldi chiaro che i portieri bravi ce ne sono un giro un casino questo bisogna dirlo ci siamo affezionati a maian ma anche lui chiede 8 milioni di euro netti anche lui sicuramente lui non ha mai detto che rimarrà al milano tutta la vita ve l'ho già detto ve lo ripeto e straripeto le bandiere non esistono più calabria è un'eccezione a parte è chiaro e ragazzi io dico solo la nostra proprietà è darsi una svegliata ma fate di questo cavolo di contratto e fate di sto 8 milioni di euro netti questo qui mette la firma prolunga il contratto arriva uno con i soldoni lo vendi e poi fai un bel mercato ragazzi questa è la verità dai su insomma io lo dico la nostra proprietà lo ripeto ancora ripeto poi le pretese di maian cosa volete dirgli a mania dobbiamo fargli le colpe a mike maniani questa roba qua no dai ragazzi poi vabbè sul discorso su altri discorsi ci sarebbero tante cose da parlare è confermato vi dico questa cosa avevo già detto nel video ieri dopo la partita contro il ren che è confermato che anzi si può dire quasi al 100 per cento avremo la quinta squadra in champions league già forse molto probabilmente a partire dall'anno prossimo adesso bisogna capire un attimino le cose come vanno per la stagione 2024 2025 vi voglio ricordare che la stagione di champions league 2024 2025 inizierà con le 36 squadre con una fase praticamente di gironi cioè tutte contro tutti tra virgolette si fa si dice così ma non è così per arrivare poi in questo periodo a giocarsi gli ottavi di finale è una cosa che non è più come la vecchia champions league abbiamo visto fino ad oggi per tantissimi anni è una cosa completamente nuova ve lo voglio ricordare con molti più soldi per chi vince la champions league e questo va detto io vi mando un abbraccio forza mina sempre comunque ovunque ve lo ripeto noi ci vediamo domenica sera dopo la partita contro il monza di palladino ciao